ecco la prima perla freddy martin ardente ammiratore dei classici ha scelto il famoso volo del calabrone di rimski korsakoff per interpretare questa fantasia nel suo personalissimo stile in un folle volo veloce disperato l'atterrito minuscolo personaggio cerca di sfuggire all'incalzante armonia di un incubo musicale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti